Dopo i falsi tecnici dell'Enel, ecco i falsi parroci e diaconi. E' accaduto a Pietrasanta dove nei giorni scorsi i gnoti, in abito talare, hanno bussato alle case dei residenti di alcune frazioni del comune con la scusa del rito della benedizione per poi spillare le offerte. Ma c'è chi si è spinto anche più in là vendendo santini e rosario. A lanciare l'allarme è lo stesso sindaco Mallegni che ha raccolto le segnalazioni dei parroci. Durante il periodo della benedizione sono presentati due individui, uno vestito con gli abiti talari e l'altro in borghese come accompagnatore e sono presentati per fare le benedizioni in una strada di strettoia dove già ero passato io per la benedizione e cercando sicuramente di entrare nelle case e vedere quello che c'era. E un secondo caso invece, il sabato scorso, una signora anziana di Vallecchia alla quale si è presentata una persona, proveniente così addetto e incaricato dal Duomo di Pietrasanta, il quale parlando di una pseudo festa che si doveva svolgere nel Duomo di Pietrasanta il 2 aprile prossimo, chiedendo delle offerte e vendendo delle statuine della Madonna la quale signora poi ne ha lasciato anche 10 Euro e in quel modo ha fregato la persona. Casi abbastanza antipatici anche perché oggi veramente bisogna fare attenzione a tutto e non si trova nemmeno più serenità anche nelle cose di Dio. Essere tentati nelle cose di fede credo che sia anche brutto. Il tam-tam dei confratelli lanciato da non Roberto Buratti, parroco di Strettoia e Vallecchia e dal parroco del Duomo di San Martino, Stefano Datri, accompagnato da avvisi durante le funzioni religiose è già partito e i fedeli sono già stati messi in guardia. Se noi non mandiamo nessuno, esplicitamente non diciamo noi, non vi fidate, anzi chiamate l'autorità, avvertiteci perché purtroppo oggi vengono anche questi casi di fregature varie.